Ciao a tutti collezionisti e collezioniste, benvenuti su Lele King di Vulcanale a voi dedicato a collezionisti dei calciatori panini e non soltanto ragazzi visto che portiamo un po' di tutto ma come vi ho detto questo è un canale dedicato a voi collezionisti e per voi collezionisti ragazzi c'è qui sotto nella descrizione un link molto importante che è quello di www.manuelcante.it dove potete trovare di tutto ragazzi per le vostre collezioni dei calciatori sia figurine che card quindi mi raccomando cliccate sul link e andate a vedere i suoi prodotti che sono veramente dei prodotti eccezionali perché ci sono prodotti moderni, ci sono prodotti storici, i prezzi sono buonissimi lo trovate sia qui sul sito che su ebay e se volete poter seguirlo anche su instagram veramente da poco e anche su instagram come ci sono anch'io quindi se vi fa piacere seguitemi anche a me su instagram detto questo ragazzi quest'oggi andiamo a pronosticare il match, il grande match della giornata numero 17 che è quello fra milan e roma andremo a spacchettare i nostri 10 pacchetti soliti facciamo 5 e 5, 5 per primo tempo e 5 per secondo tempo metteremo a sinistra le figurine della roma, a destra quelle del milan al centro tutte le altre iniziamo con il pronostico e aprire la prima bustina mi raccomando scrivete sotto nei commenti il vostro pronostico di questo match e poi se volete tornate a scrivere il risultato giusto allora apriamo per la prima figurina cerbi dell'inter quindi stiamo ancora sullo 0 a 0 Pussetto della Samp gli stemmi della serie C che è il Vicenza, il Lecco, il Mantua e il Novara Marco Santonio della Lazio e Ien giocatore svedese dell'Ellas Verona andiamo col secondo pacchetto vediamo se si sbloccherà il match oppure no leviamo intanto il punticino e abbiamo la nuova firma di Pinamonti con la maglia del Sassuolo Ilic dell'Ellas Daniele Verde dello Spezia Lauriente del Sassuolo e lo stemma della Samp andiamo con il terzo pacchetto ci troviamo ancora sullo 0 a 0 fra Milan e Roma quindi a Milan-Roma mettiamo di qua le figurine del Milan a sinistra e a destra quelle della Roma intanto la Roma passa in vantaggio con la figurina di Mancini Gianluca Mancini ok ne abbiamo levato però il tagliandino togliamo il tagliandino e andiamo avanti con questo pronostico Roma in vantaggio un po' a sorpresa ragazzi perché la Roma non sta giocando io sono diffuso la Roma voi ce lo sapete però non sta giocando molto bene intanto abbiamo Radu Ambaravat Ciccocco della Fiorentina la maglia dell'Empoli e lo stemma del Monza quindi per adesso è in vantaggio la Roma 1 a 0 andiamo con il quarto pacchetto vediamo cosa succede in questo quarto pacchetto e troviamo e troviamo Jasi dello Spezia Udoci dell'Udinese Juan Jesus del Napoli Enrique del Sassuolo e Bonazzoli della Salernitana ultimo pacchetto per il primo tempo ragazzi poi andiamo a commentare questo risultato abbiamo gli stemmi da Serci Messina Cerignola Avellino e Catanzaro Lukic del Torino Marusic della Lazio l'Elite Sanabria del Torino e Vilena giocatore olandese della Salernitana allora ragazzi finisce il primo tempo 1 a 0 per la Roma fuori casa già difficile vincere fuori casa insomma a casa del Milan non è semplice vincere la Roma in questo pronostico ragazzi è un pronostico non cominciate poi a commentare c'è chi addirittura ci rimaneva così male che mi scriveva su Instagram e anche in maniera abbastanza maleducata ma ragazzi è un pronostico è un gioco sta vincendo la Roma 1 a 0 contro il Milan in questo primo tempo secondo me è un risultato un po' sorpresa perché secondo me è favorito il Milan a livello di gioco che sta mostrando a livello di qualità però ci può stare tutto nel pallone può succedere di tutto la Roma vince 1 a 0 io sono contentissimo andiamo a giocarci il secondo tempo con le bustine calciatori 2022 2023 vediamo se si modificherà il risultato oppure se resterà lo stesso allora Barberis del Monza poi gli stemmi di Parma e Perugia Poche del Bologna Iulmend della Lecce e Lucomi del Bologna quindi prima bustina il risultato rimane invariato 1 a 0 per la Roma vediamo con la seconda bustina del secondo tempo se succederà qualcosa Eccdal dell'Ospezia Min Jean Kim del Napoli anche questo è un altro buon acquisto del Napoli Bonifazi del Bologna Murru della Samp e Baroni allenatore del Lecce terza bustina per il secondo tempo vediamo cosa succederà stiamo arrivando ormai al termine di questo spacchettamento e di questo pronostico Obosse Camerunense dell'Udinese Jim City dell'Atalanta Quami della Fiorentina poi abbiamo 3-4 giocatori della Spal e Caldara dello Spezia quindi siamo ancora ragazzi sull'1 a 0 per la Roma mancano due bustine al termine del pronostico al termine del pronostico mancano due bustine vediamo che cosa ci riserverà questo pronostico se finirà così o se ci sarà qualche sorpresa intanto c'è Frattesi del Sassuolo giocatore nel mirino della Roma i giornali parlano tanto di questo affare che sembra quasi che dovrebbe concludere già adesso a gennaio però le parole di Pinto non sono tutt'altro poi abbiamo Maggiore della Saternitana Ascacibar della Cremonese poi quattro giocatori a spalle e quattro giocatori dell'Asconi ancora non è successo niente ragazzi ancora 1 a 0 per la Roma a Milano ultima bustina vediamo cosa succederà in quest'ultima bustina ultima bustina decisiva abbiamo gli stemmi di Taranto Turis Francavilla e Viterbesi nuova firma per il Milan ed è 1 a 1 ragazzi e che 1 a 1 che fa il Milan buono per il Milan non per noi comunque 1 a 1 in questo figo pronostico per adesso nell'ultima figurina nell'ultima bustina abbiamo Bonazzoli Elite della Salernitana abbiamo Politano Dernapoli qui c'è uno stemma no non è uno stemma ma è un Elite ed è Lukaku con il suo ritorno all'Inter allora secondo il pronostico ragazzi questa partita fra Milan e Roma finirà 1 a 1 fatemi sapere i vostri pronostici e tornate a scrivere il risultato reale perché sono curioso di vedere se ci abbiamo preso oppure no io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti